Salve a tutti, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con le mie indicazioni di lettura. Siamo alla fine, il libro di cui parlerò oggi è L'Opera al Nero di Margherita Jürzenar, un romanzo che per me è stato molto molto importante nel corso della mia vita, uno di quei romanzi sui quali si torna volentieri trovandoci sempre qualche cosa di nuovo, sempre qualche spunto di riflessione importante e fondamentale. Prima però di passare alla introduzione che vorrei fare a proposito di quest'opera, vorrei però sottolineare un aspetto. In queste mie conversazioni che ho tenuto grazie anche all'opportunità che mi è stata offerta dalla Biblioteca Civica Falesiana, che vorrei qui ringraziare appunto, in queste mie conversazioni ho privilegiato una letteratura scritta da donne, non direi una letteratura femminile perché è una definizione sbagliata, diciamo che ho privilegiato scrittrici, 4 almeno su 5. Questo per scelta deliberata, perché? Perché se noi osserviamo per esempio quello che succede a scuola, prendiamo in esame una qualsiasi antologia scolastica ad uso delle scuole secondarie di secondo grado, vediamo che lo spazio riservato alle donne è assai risicato. Se questo per quanto riguarda i secoli passati può essere in qualche misura giustificato, dal momento che nel passato appunto le donne a causa del ruolo, del contesto in cui si sono trovate a vivere, avevano certo maggiore difficoltà a inserirsi nella sfera intellettuale, a lavorare in quest'ambito, quindi dovevano superare degli ostacoli non da poco e per questo motivo quindi le scrittrici importanti e fondamentali sono in numero ridotto rispetto agli scrittori uomini. Per quanto riguarda il ventesimo secolo e tanto più questi primi decenni del ventunesimo secolo, questo non è più vero. Le donne per fortuna possono parlare e scrivono e scrivono anche molto bene. Non parlerei di una sensibilità femminile, qui si parla di qualità di scrittura che prescinde comunque dal sesso. Ciò nonostante le scrittrici donne, per quanto alcune di loro abbiano addirittura vinto premi Nobel per la letteratura e siano ormai universalmente riconosciute come fondamentali e importanti, trovano assai poco spazio nelle storie della letteratura scolastiche. Perché questo accade? È difficile a dirsi. Una tradizione, uno sguardo orientato è forse mio per la tendenza a privilegiare certi autori piuttosto che altri perché si è sempre fatto così. Non lo so, però nel mio piccolo, approfittando di questa occasione, ho voluto comunque parlare appunto di scrittrici donne e non perché donne, per questo motivo, perché appunto alle donne viene lasciato poco spazio nonostante se lo meritino tutto, e perché si sta parlando di qualità di scrittura che, come ho detto prima, è qualcosa che prescinde sicuramente dal sesso. E allora non si capisce perché bisognerebbe forse ricorrere a delle quote rosa nella storia della letteratura indirizzata alle scuole. Perché nonostante le donne lavorino come insegnanti, come docenti universitarie, come critiche, lavorino nell'editoria, esiste sempre questa sproporzione che francamente oggi non è più, a mio avviso, giustificata. Le donne ci sono, sono scrittrici importanti, quindi concediamo loro lo spazio che meritano oggi. Questo intanto è il primo aspetto a cui tenevo che volevo sottolineare in questa circostanza. Seconda considerazione. L'opera al nero di Margarete di Urzenar non è un'opera facile, non è un'opera che si presti ad una lettura veloce di pura e semplice evasione. È un'opera complessa, è un'opera per molti aspetti stratificata, è un romanzo storico ambientato nella seconda metà del Cinquecento, nel momento in cui il Rinascimento stava ormai tramontando e si manifestavano momenti di grande violenza e di grande intolleranza in Europa, per lo più legati a questioni di carattere religioso, fra riforma e controriforma, incentrata su questo personaggio affascinante, il personaggio di Zenone, che è un uomo che va alla ricerca spasmotica di se stesso sin dalle prime pagine, quando appunto dice che lui ha intrapreso i suoi viaggi, che lo porteranno un po' ovunque fra Occidente e Oriente, per cercare chi? Per cercare appunto Zenone. Ribadisco, è un'opera stratificata perché dietro a questa caratterizzazione storica, appunto un romanzo storico, in realtà si nascondono dei riferimenti abbastanza precisi a quelle che sono state le tensioni, le difficoltà, i drammi, le tragedie che hanno caratterizzato il Novecento, il ventesimo secolo, quindi dobbiamo leggere questo romanzo tenendo sempre presente in controluce i riferimenti all'attualità, per quanto il romanzo sia estremamente documentato e attendibile dal punto di vista storico. Tuttavia appunto non è una lettura semplicissima e questo mi permette appunto di fare un'ulteriore osservazione. Io vorrei farmi paladina di un movimento che vorrei definire slow reading, il movimento a favore della lettura lenta e se possibile anche della rilettura attenta. Per quale motivo? Avete visto no? Ci sono tutta una serie di cose tipo lo slow food, lo slow journalism e quindi un giornalismo più lento, più meditato, più attento, meno portato al sensazionalismo e alla ricerca spasmodica di click pubblicitari. Quindi molto spesso questo aggettivo slow ricorre come un qualcosa che bisognerebbe ricercare in questa nostra convulsa modernità caratterizzata appunto dalla rete fra l'altro, una rete che predispone proprio alla fruizione rapida di contenuti tutto sommato facili o semplificati. Eppure secondo me bisognerebbe ritornare a leggere e forse anche a scrivere romanzi che ti portano in realtà ad una lettura lenta, romanzi dove è importante approfondire, romanzi dove siano fondamentali anche quei tempi morti, le cosiddette descrizioni che dettagliatamente ti portano all'interno di un contesto, di un ambiente. Bisognerebbe abituarsi ad avere meno fretta quando si legge, bisognerebbe ritornare in qualche modo alla fruizione di contenuti non semplici, di contenuti complessi anche perché il nostro mondo comunque non è un mondo facile, è comunque un mondo appunto complesso che avrebbe bisogno di strumenti più raffinati di quanto non siano magari storie che vengono sia pure lodate, pubblicizzate, vendute, best seller eccetera ma che poi ti lasciano sempre un qualche cosa di irrisolto, qualche cosa di non compiuto, ti lasciano sempre un vago senso di insoddisfazione perché per certi aspetti sono troppo facili, troppo scontati. La letteratura è qualche cosa che ci spinge ad avere uno sguardo non scontato sul mondo e per avere questo sguardo non scontato, per avere questo sguardo non facile, non semplificatorio, bisogna prendere tempo. È importante riconquistare il tempo secondo me della lettura lenta. Ecco perché per concludere queste mie conversazioni letterarie ho scelto un'opera che certo non è un'opera di quelle tipiche di evasione, un'opera che necessita di un certo sforzo, di una certa volontà di approfondimento, una certa volontà di affrontare la complessità e la difficoltà. E visto che l'opera al nero, come ho detto, non è un romanzo facile e non è certo semplice parlarne in pochi minuti, se non per dire che è un romanzo che vale la pena di leggere. Io l'ho letto la prima volta intorno ai vent'anni, subito dopo Memoria di Adriano e devo dire che è un romanzo che mi ha segnata profondamente, un romanzo che mi ha accompagnato fino a questo momento, forse perché appunto il protagonista è colto nel suo divenire, dalla sua giovinezza intellettuale ardente di studi fino alla maturità, fino alla morte e quindi è una storia, è un personaggio nel quale è possibile riflettersi anche in diverse fasi della propria vita e come tutti i classici in fondo è un libro che ha sempre qualcosa da dire, però è difficile raccontarlo se appunto è così complesso. E allora ho pensato che sarebbe stato preferibile e più umile da parte mia rimettermi alla stessa autrice, affidarmi alle parole della stessa Yurt Senard per descrivere almeno parzialmente quest'opera e il modo in cui lei l'ha concepita e realizzata. E quindi ho recuperato nella mia affollata libreria un libro intervista di Margherita Yurt Senard che si intitola A occhi aperti, un libro in cui lei parla un po' di tutto, ci offre il suo sguardo disincantato e al tempo stesso appassionato sul mondo e parla anche appunto delle sue opere di memoria di Adriano e dell'opera al nero e non solo di queste ma anche delle molte altre opere che ha scritto. In fondo Margherita Yurt Senard è stata la prima donna accademica di Francia, questo vorrei ricordarlo. Ci parla appunto dell'opera al nero, del suo personaggio di Zenone, di come l'ha pensato, di come l'ha concepito, di come l'ha realizzato. E quindi io lascerei parlare Margherita Yurt Senard, leggerei le parole che in questo libro intervista ad occhi aperti lei dedica appunto alla sua opera, a questa opera al nero e al suo personaggio Zenone. Come ho detto l'opera al nero, la vita di Zenone, è ambientata nel Cinquecento al momento della crisi del Rinascimento. A questo proposito Margherita Yurt Senard ci dice questo. Dopo la caduta di Roma nelle mani dei soldatacci di Carlo V nel 1525, una data che taglia un'epoca in due, come il 1914, smarrimento e demoralizzazione hanno preso il posto delle smisurate speranze del giovane umanesimo. Abbiamo conosciuto fratture di questo tipo non solo nel 1914, che ho vissuto da bambina, ma anche dopo la breve euforia degli anni venti. Ci sono state inquietudine e violenza crescenti e che non hanno cessato di crescere. Anche il 1945, l'anno di Roshima, è stata una di queste date fatali. E anche questo mutamento dei tempi, del resto, a far sì che memoria di Adriano non sarebbe lo stesso se l'avessi scritto dieci anni dopo. Oggi, poi, credo che non potrei più nemmeno concepirlo. Subito dopo la fine della guerra, nel 1945, intravedevo ancora la possibilità di una sorta di riorganizzazione del mondo. Ed è una speranza, questa, che la maggior parte di noi è apertuta, anche se, per spirito di disciplina e per coraggio, si agisce come se vi si credesse ancora. Fra memoria di Adriano, in cui c'è un grande spirito che si sforza di ricomporre un universo, una tellus stabilita dopo anni e anni di guerra, e l'opera al nero, in cui Zeno sprofonda via via, in spirali perverse, di ignoranza, barbarie e stolide rivalità, ci sono, disgraziatamente, 15 anni della nostra esperienza storica. Ed è stato durante il disgraziatissimo 1956 che mi sono rimessa a questo progetto. Pensi, Suez, Budapest, l'Algeria, ho sentito come diventava facile evocare il disordine, le cortine di ferro del XVI secolo tra Europa cattolica e Europa protestante, e il di coloro che non appartenevano ad alcuna di esse, e fuggivano dall'una all'altra. Quell'anno ero stato in Olanda, e il mio soggiorno coincideva con la crisi di Suez. Al museo di Bruxelles guardavo i quadri di Bruegel con le loro immagini di guerra e distruzione. E ancora, come immaginava Margherita di Urzenar il suo personaggio? Quanto all'aspetto fisico non so, l'ho sempre visto così, tenace e nervoso, tutto fuoco e fiamme, perché la forma fisica non è che un temperamento reso visibile. Lo vedo pallido durante gli anni di studio, abbronzato dal sole e dal vento dopo, nella sua vita, on the roads. Soprattutto lo immagino magro, indistruttibile, emaciato e ardente. E stranamente non è cambiato. Quando avevo vent'anni lo vedevo già così. Ho cercato nei ritratti d'epoca degli uomini che gli assomigliassero. Ci sono alcuni personaggi abbastanza vicini all'idea che mi ero fatta di lui, un certo busto di Donatello in particolare. Rivisitando il bargello mi son detta. To, volendo, questo italiano potrebbe essere Zeno. Come una scrittrice come la Urzenar arriva a concepire il disegno complessivo di un'opera? Il primo abbozzo dell'opera al nero risale ai suoi vent'anni, ma già come era accaduto per memoria d'Adriano, questo libro è stato ripreso in mano e terminato molti molti anni dopo, come abbiamo visto precedentemente. A questo proposito la Urzenar ci racconta questo. All'inizio non avevo uno schema preciso. È stato rileggendo con un certo disgusto l'abbozzo dello Zeno dei miei vent'anni che mi sono detta si potrà riutilizzare la rivolta degli operai. È una cosa importante, un documento d'epoca. Si potrà utilizzare l'incontro dei due cugini che ha in sé il calore della gioventù, oppure la storia dei cordiglieri di Bruges raccontata in poche righe da uno storiografo, potrà servire da nucleo, o meglio da armatura, a tutta la seconda parte del libro. E poi, naturalmente, ci saranno dei viaggi, come per ogni filosofo di quel tempo. Ma, a parte questo, non sapevo. In genere, sono molto poco quando comincio un libro. Ho continuamente accertato ciò che per Zeno era possibile e ciò che era impossibile, ciò che si poteva dire e ciò che non si poteva. Ma, quanto al modo in cui il caso avrebbe preso forma, per questo bisognava lasciare fare al caso. E, se si tratta di una vita piuttosto lunga, il caso ha un ruolo considerevole. L'ho detto. E l'ho ridetto in archivi del Nord. E l'ho ripetuto anche a lei. Alla gente non piace scoprire quanto la vita dipenda dal caso. È una cosa che li mette a disagio. Le persone vogliono avere una vita più o meno controllata dal loro, o, se non proprio dal loro, dalle loro passioni, dai loro amori, perfino dai loro errori. Trovano che così è più bello, più interessante, ma che una certa cosa sia ripesa semplicemente dall'autobus che si è preso. Del resto, io stessa mi stupivo procedendo nella stesura dell'opera al nero. Anche Zenone, fino alla fine, resta in uno stato di stupore e di incertezza. Potrebbe tradire le sue idee, fino all'ultimo momento potrebbe chiamare un guardiano della prigione e accettare di fare pubblicamente la sua autocritica. Potrebbe anche accettare di essere arzo vivo, anzi, pensa che non sarebbe una morte più straordinaria di quella che avrebbe potuto capitargli se i suoi abiti avessero preso fuoco mentre lavorava al suo fornello di alchimista. E può anche scegliere di morire nella relativa tranquillità della sua prigione. Non ho scelto per lui, bisognava lasciarlo scegliere fino in fondo. Molti personaggi dell'opera al nero, ce n'è uno in particolare, che rappresenta il compagno opposto, ma al tempo stesso complementare del protagonista, forse il suo amico più vero nel corso del tempo. È un personaggio particolare, il priore dei Cordiglieri, che Zenone incontra per caso e poi rincontrerà nuovamente nel corso dei suoi vagabondaggi e che avrà un ruolo importante nella sua storia, nella sua vita. A questo personaggio la Jürzenar dedica una serie di affermazioni molto molto interessanti, che fanno vedere appunto come sia quasi magica, alchimistica la procedura che conduce uno scrittore a immaginare le sue figure, i suoi personaggi, i suoi protagonisti. Vale la pena di leggere. Del resto, tutta la fine del libro ha preso una piega effettivamente imprevista per me e per Zenone, quando egli ha incontrato il priore dei Cordiglieri. All'origine il priore non era che una comparsa e proprio qui si vede la poca differenza che vi è inizialmente fra una figura secondaria e un personaggio importante. Lasciando gli Stati Uniti per la Polonia, era il 1964, avevo terminato un capitolo mostrando Zenone che si guarda in uno specchio, vede la sua immagine moltiplicata, si tratta di uno specchio formato da tanti specchietti convessi che avevo visto in una casa di Lubecca. E poi se ne va. Quell'immagine è quasi il simbolo di tutti gli Zenone ancora possibili alla sua età, 50 anni. Avevo quindi abbozzato il capitolo seguente in cui gli si offriva a San Lì un posto nella carrozza del priore dei Cordiglieri, che tornava dall'avere assistito al capitolo generale dell'ordine. Mi ero detta, raggiungerà Bruges in un modo o nell'altro e si farà dimenticare. Non mi aspettavo assolutamente che Zenone rivedesse il priore e gli si affezionasse. Un po' stanca, il lavoro mi aveva assorbita molto, sono partita per la Polonia e ho fatto una breve puntata in Russia, lasciando Zenone seduto, per così dire, al suo posto. E sulla via del ritorno mi sono ritrovata in Austria e là, improvvisamente, ho avuto voglia di andare nella chiesa dei francescani di Salisburgo, che è bellissima. Mi sono seduta là dentro e ho assistito alla messa solenne e ho letteralmente visto entrare nel mio pensiero, certo, anzi, nel pensiero dei miei occhi, il priore dei Cordiglieri. E questo personaggio, che fino a quel momento non esisteva che in una sola frase del libro, improvvisamente era là, vivissimo e aveva molto da dirmi. Fu così che il libro, invece di concludersi in dieci pagine, ne ha avute duecento in più. Tutto questo mi si è imposto. Ho capito che il priore dei Cordiglieri e Zenone erano complementari. Il priore, con la sua rivolta tutta interiore, e Zenone costituzionalmente ribelle in ogni frangente della vita. Tutti e due sono estremamente intelligenti, sono affini, ma il priore è dominato dalla pietas che prova per ogni essere umano, mentre Zenone, benché anche egli appartenga per la sua passione di servire al mondo della pietà, conserva fino in fondo la sua fredda compassione di medico. E a proposito del rapporto profondissimo, intenso, fra questi due personaggi, il cristiano credente, priore dei Cordiglieri e l'ateo Zenone, condannato a morte per la sua eresia e che sceglie di sottrarsi al rovo attraverso il suicidio, vorrei leggere un altro breve passaggio di questa intervista dell'Ajurzenare, di questo libro intervista dell'Ajurzenare, in cui lei racconta la fine di Zenone esattamente così, con queste parole. Fino a questo momento nessuno, o quasi, ha sentito chiaramente che il priore dei Cordiglieri è il pareverosso di Zenone, il suo uguale, che il cristiano e colui che si pretende ateo si incontrano al di là di ogni contraddizione. E quando Zenone, negli ultimi momenti della sua agonia, crede di sentire dei passi che vengono verso di lui, non poteva essere che un amico, quei passi sono quelli del priore, morto prima di lui e da lui assistito, così che il morente non sa più se si tratta ancora di soccorrere il priore o di essere soccorso da lui, e si ricongiungono in un'eternità che forse non è altro che un istante supremo. E dopo aver letto queste considerazioni di Margherita Ajurzenar sulla sua opera, sull'opera al nero e sul personaggio di Zeno o Zenone, a seconda di come traduciamo il suo nome in italiano, vorrei chiudere con un ultimo passaggio del libro intervista della Ajurzenar, in cui la scrittrice parla del suo lavoro, di quello che significa per lei assumersi l'onere e se vogliamo l'onore appunto di essere una scrittrice. È un passo molto bello che credo molti dovrebbero tenere presente, è un passo che in fondo parla di responsabilità, di responsabilità della scrittura. Margherita Ajurzenar ci dice questo. Ogni scrittore è utile o nocivo, non si scappa. È nocivo se è confuso, pasticcione, se deforma o falsifica, sia pure inconsapevolmente per fare colpo o montare un caso, se aderisce senza convinzione a opinioni che non sono le sue. È utile? Si arricchisce la lucidità del lettore, lo libera da timidezze o pregiudizi, gli fa vedere e sentire ciò che quel lettore non avrebbe visto né sentito senza di lui. Se i miei libri sono letti e toccano una persona, una sola, e le danno un aiuto qualunque, sia pure per un momento, vi considero utile. E dato che credo alla durata infinita di tutte le pulsioni, poiché tutto si perpetua e si ritrova sotto un'altra forma, questa utilità può dilatarsi molto nel tempo. Un libro può dormire per cinquant'anni o duemila anni nell'angolo più recondito di una biblioteca, e all'improvviso lo apro, vi scopro, meraviglie o abissi, una riga che mi pare sia stata scritta solo per me. Lo scrittore non è diverso in questo dall'essere umano in generale. Tutto ciò che diciamo, tutto ciò che facciamo, produce qualcosa. Bisogna cercare di lasciarsi dietro un mondo un po' più pulito, un po' più bello di quanto non fosse prima. Anche se questo mondo è solo un cortile o una cucina, se il brano di care memorie sul massacro degli elefanti ha dissuaso un solo milionario sfaccendato dall'andare da uccidere un elefante in Africa, o una sola donna dal comprare futili gingilli d'avorio, mi sentirò perfettamente legittimata di aver scritto quel libro. Ma dopo aver ascoltato le parole di Margherita Jorzenar a proposito del suo romanzo e del suo lavoro di scrittrice, vorrei concludere quest'ultimo appuntamento facendo parlare Zenone, il personaggio che abbiamo evocato fino a questo momento, sperando che questa breve panoramica su quest'opera, attraverso il giudizio che ne ha dato la sua autrice, sia servita almeno ad incuriosire qualcuno che non l'avesse letta. Vi consiglio inoltre di procurarvi, se potete, anche il film che è stato tratto da L'Opera al Nero, un film che ha come protagonista straordinario Gian Maria Volontè nei panni appunto di Zenone. E allora Zenone, proprio all'inizio del romanzo, incontrando il cugino che era destinato ad un futuro di guerriero, di cavaliere, di combattente, mentre Zenone aveva scelto la strada dello studio, appunto in questa prima conversazione fra loro, Zenone ci dice questo e spero che queste parole possano accompagnare qualcuno così come hanno accompagnato me durante molti anni. Vedi, rispose Zenone, al di là di questo villaggio altri villaggi, dopo questa abbazia altre abbazie, oltre questa fortezza altre fortezze. E dentro ogni castello di idee, ogni casupola di opinioni, costruite sopra alle casupole di legno e ai castelli di pietra, la vita imprigiona i pazzi e dischiude un pertugio ai savi. Oltre le Alpi l'Italia, oltre i Pirenei la Spagna, da un lato il paese di Pico, dall'altro quello di Avicenna. E più lontano ancora il mare, al di là del mare, sull'altra riva dell'immensità, l'Arabia, la Morea, l'India, le due Americhe. E ovunque le valli dove si raccolgono i semplici, le rocce dove si celano i metalli, ciascuno dei quali simbolizza un momento della grande opera. Le formule magiche infilate tra i denti dei morti, gli dèi, ognuno con la sua promessa, le folle, tra cui ogni soggetto si pone come centro dell'universo. Chi sarà, tanto insensato, da morire senza aver fatto almeno il giro della propria prigione? Lo vedi, fratello Enrico, sono veramente un pellegrino. La strada è lunga, ma io sono giovane. Il mondo è grande, disse Enrico Massimiliano. Il mondo è grande, disse gravemente Zenone. Piaccia a colui che forse è di adeguare il cuore umano alla dimensione di tutta la vita. E con queste parole vi saluto e vi ringrazio di aver avuto pazienza di ascoltarmi lungo questo viaggio attraverso i libri che amo.